Ed eccoci di nuovo con la seconda puntata di questa playlist Abbiamo il mitico Galaxy S2 che ci mostra in bella vista la frequenza di clock del processore Vabbè, altri dettagli Qui non viene evidenziata l'interfaccia software come veniva fatta appunto nella scatola del Galaxy S Memoria raddoppiata rispetto a prima, avevamo 8 GB Ripeto, queste non sono scatole complete, sono solo scatole dimostrative Perché la cosa importante è che ci sono le ditate sullo schermo quando si apre No, scherzo, vabbè Appunto, solo per fare, diciamo così, una simil prova Come appunto dicevo prima Intanto che si accende Ok Questo qua, come dicevo, ha dei problemi Nel senso che il Wi-Fi e il Bluetooth stanno facendo un po' così I loro comodi Ecco Ho dovuto mettere praticamente la mia sim Ecco Ve lo faccio vedere aperto perché ho deciso che li faccio anche vedere aperti Infatti la mia sim è lì Metterò anche una foto Come potete vedere appunto qui E niente, queste sono il Galaxy S2 dall'interno E questa volta il posteriore Che era una plastica spettacolare all'epoca, me la ricordo Come sentite è zigrinato questa volta Con il logo Samsung in rilievo, eccetera L'autoparlante era fatto così Aveva il jack Bei tempi quando c'era il jack La micro USB non era coperta Ok Possiamo partire Fa cose a caso Ok, andiamo alla schermata Classico GPU-Z Come vedete c'è H+, perché è quello che prendeva con mi sembra 5.76 megabit in download Download Ok, qua abbiamo appunto il processo produttivo del processore che è 45 nanometri Il SoC È un Exynos Era prodotto da Samsung La GPU era una Mali 400 E la risoluzione era la stessa ma come dicevo nel confronto Forse, sì, tra la Galaxy S e la Galaxy S2 Era un Era a minore densità di pixel Però era un Zoomer AMOLED Plus che ovviamente non si vedrà mai dalla qualità di ripresa di Galaxy S7 Però non aveva la matrice Pentile La matrice Pentile è una cosa particolare che se hai cercato su YouTube sicuramente troverete spiegata Software, come dicevo, è brandizzato 3 quindi è rimasto alla 2.3.5 Gingerbread anche lui Questi sono i sensori vari Proximity Sensor Proximity Sensor che si attiva Perfetto Come dicevo appunto Anche questo qui Il display Volevo far vedere le differenze varie Il display, la luminosità No La luminosità era automatica già Anche su questo perché come dicevo l'hanno mantenuto su tutti i top di gamma Fin dall'inizio Poi appunto Facciamo, vabbè Invertito rispetto all'altra volta Ma insomma Ah il caricamento di questo qua è fantastico Ecco in questo caso sì che È giocabile tempo run Cioè è una cosa veramente pazzesca Considerata, ripeto, sempre l'età Tra l'altro qui appunto abbiamo Sempre il tutorial Però come vedete c'è Questo qua Ovvio che fa ridere perché è un gioco ridicolo Per quanto riguarda La richiesta grafica Comunque appunto Gira benissimo Se io, vabbè Adesso se devo interrompere Lo posso fare subito Main menu Via Tac E via E torno a casa Sì, torno a casa adesso Vabbè E appunto torno a casa Torno alla home Questa fotocamera purtroppo appunto ha questi problemi Che non sono riuscito a risolvere pulendo il sensore L'ho aperto Ho fatto un po' di tutto Ma niente di che Niente da fare Allora Le impostazioni qua Vabbè Inutile dire che la grafica è Almeno 50 volte meglio rispetto a quella del Galaxy S Ma comunque Abbiamo sempre le scene Anche qui la notte fa Il suo dovere La modalità notte è interessante Lo vedremo in un confronto Però Nulla di Cioè non migliora così tanto Nella notte rispetto all'S Al Galaxy S Migliora sicuramente Molto 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 Rispetto All'S Nella Di giorno E nella Nella risoluzione Che diventa 8 megapixel E Inutile dire che Non riesco a prendere il coso C'è il flash Che Probabilmente nel Galaxy S Si sono dimenticati Perché erano ubriachi Quella sera Ma non si sa Video Video è stato il primo Questo mitico telefono A Avere la risoluzione Full HD L'avevo già fatto vedere Ma adesso le facciamo vedere Tutte E appunto Avevamo la risoluzione Full HD Quindi Temporal L'abbiamo provato Adesso proveremo A Sfruttare Il nostro Internet Che sarebbe anche 4G Ma Questo pover'uomo Funziona l'H Che è più Vediamo un po' Il nostro mentore Nostro Quanti siamo? Uno ce n'è Io Il mio mentore Che lo seguo Eccolo qua Neanche lui Ma penso sia più Di Gingerbread Proviamo Tutto Android Anche loro Grandissimi Veramente Cioè Se siete appassionati Consiglio totalmente La visione Di Del Almeno Dei loro video Se non del sito Che In questo caso Non posso farvelo vedere Nelle migliori condizioni Comunque Navigabile E Questo era famoso Era diventato famoso Questo telefono Per avere appunto La capacità Di aprire La Repubblica In una maniera Veramente che Nessun altro telefono Era in grado di fare Mi ricordo I confrontoni Appunto Con I vari altri telefoni Adesso Oddio Non mi piacerebbe Vedere se c'è La modalità Desktop Ma non credo Mai nella vita Questo è interessante Quante impostazioni C'erano Per il Oh mamma Quante impostazioni C'erano Per il Brownser Di serie Mi ricordo che Una cosa pazzesca Era che Aveva il supporto Al flash player Cosa che adesso Non si fila più nessuno Non si sa Perché comunque Fatto sta che Non posso farvi vedere I pinch impazziti Che faceva Il nostro mentor Come tutti gli altri All'epoca Per confrontare Questo con i Proviamo a prendere A cliccare a caso Qualcosa Economia No Non funziona niente Va bene E' colpa di Comunque del Ah ok Ma perché torna giù Va bene E' colpa del sistema operativo Non del Non del telefono Del processore Di per sé Mi ricordo appunto Che c'erano Quei confrontoni Con i pinch impazziti Tipo così Pa 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 Così E niente E All'epoca Era veramente Questo sì Che era veramente Al passo con i tempi E' in grado Di confrontarsi Con iPhone Cioè per certi aspetti Lo sulclassava Ampiamente Vediamo qua Se siamo in grado Attenzione Qua siamo in grado Di vedere Beh Di un Galaxy Cosa vuoi fare Ok perfetto Non Non ce lo fa vedere Oddio Forse sì No Niente Ok va bene Per tutta una serie Di motivazioni Vediamo quelli Senza i servizi Google Tra l'altro Vorrei sottolineare Che questo telefono Il Galaxy S Hanno i servizi Google Lui No Vabbè Grazie Donald Io direi che Dopo questa Possiamo Ritirarlo di nuovo Nella Cantinetta Alla prossima